Tre anni ma è già grande, almeno nei numeri, stiamo parlando della Half Marathon, la mezza maratona provincia di Isernia, città di Venafro, quest'anno alla terza edizione. Oltre 500 i partecipanti, alcuni di caratura nazionale, insieme a quelli espressione del territorio, tanti podisti provenienti da altre regioni. C'è chi farà centinaia di chilometri, pur di essere domenica 4 febbraio parte dello spettacolo, lo sport che diventa fenomeno sociale e di promozione turistica delle bellezze del territorio. È l'obiettivo che gli organizzatori proveranno a confermare. La presentazione dell'evento stamane presso l'ormai consueta location della Palazzina Liberty. Tutti i presupposti sono a nostro favore, sia a livello climatico che sia a livello di partecipazione. Abbiamo raggiunto, credo, quasi il record, dovrei verificare, siamo proiettati 600 atleti. Quindi un grande evento per Venafro, per la provincia di Sernia e per il Molise. Bisogna dire che l'associazione con Massimiliano Terracciano a capo sta facendo davvero un ottimo lavoro sul territorio, ma non solo su Venafro perché organizza altre gare in giro per il Molise. Quindi è uno molto attento a questo e noi naturalmente cerchiamo di essergli il più vicino possibile. Tra l'altro quest'anno finalmente gli è stata assegnata la stella per i meriti sportivi, la stella di bronzo, quindi è un ulteriore riconoscimento per tutto lo sforzo e tutto il lavoro che sta facendo sul territorio. E a margine un riferimento alla murale s'ha apparso in città da qualche giorno. Raffigura un podista con una maschera antigas, chiaro riferimento alla questione ambientale nella piana e forse una stoccata nei confronti di qualche sponsor ritenuto corresponsabile della situazione. Non credo che ci siano problemi di sorta, noi stiamo operando correttamente con massima trasparenza e il nostro obiettivo fondamentale, lo ripeto, lo ribadisco, è promuovere lo sport e promuovere il nostro territorio a 360 gradi.